Tra i giocatori che si sono rivelati in campionato, Moro, asso della porta. Valcareggi è tornato alla Fiorentina. Non vi induca in errore questa puntata offensiva, il Napoli gioca la carta dello 0-0. La guerra difensiva è fatta di Ruttoloni. Il Costanzo e Bollano avversari diretti è stavolta l'ha spuntata in mediano. Galassi modula con approssimazioni ancora interpette quel colpo di scatola cramica che all'embedio assoluto della ripresa gli frutterà il gol. Eccoci al secondo tempo. Moro blocca la punizione scoccata da Andreolo. Chi contesta la vittoria Fiorentina? Gli azzurri naturalmente che gridano al fuorigioco. Acqua ragazzi, acqua sul poco Vesuviano.